Un saluto da Arianna, eccoci qui pronti per scoprire le nuove proposte di questo nuovo appuntamento. Noi oggi siamo ospiti di Center Milano in via Petitiotto Angolo, via Lecertosa, l'unica filiale del gruppo Volkswagen che potrete trovare qui a Milano. Allora andiamo a scoprire le offerte che Center Milano ha selezionato per voi. E finalmente una donna ad attenderci qui in Seat. Ciao Sara. Ciao Arianna, benvenuta. Grazie, andiamo a dare una piccola anticipazione di quello che tratteremo in questo appuntamento. Certo Arianna, allora oggi parleremo di gamma Ibiza e gamma Leon. Benissimo, allora iniziamo subito. Eccoci Arianna, ti lascio in compagnia del nostro responsabile vendite Mauro Della Torre. Grazie Sara, salve a tutti e partiamo a vedere questa bellissima Ibiza Limited Edition, vero Arianna? Sì Mauro, davvero incredibile questa Seat Ibiza, davvero un design accattivante, ma andiamo a vedere cosa ha di serie questa autovettura. Infatti vediamo che ha il clima, radio con auxin, cruise control e poi specchietti elettrici, fendi nebbia e ESP. Tutto questo di serie, quindi sono optional che troverete già nell'autovettura. Ma arriviamo a quello che credo che vi interesserà di più, il prezzo. Il prezzo di questa autovettura è davvero strepitoso. Per questo parliamo di 9.950 euro, grazie a un vantaggio cliente di 2.650 euro. Ma ora parliamo di finanziamenti, Mauro. Esatto, perché su tutta la gamma Ibiza abbiamo finanziamenti tasso zero, fino a 48 mesi e tassi agevolati con incendi e furti in omaggio. Ma esiste anche un'altra versione per i clienti più esigenti. Eccola qui, andiamo subito a presentarla. Ibiza Coppa, un allestimento fenomenale. In più rispetto alla versione precedente, qui troviamo cerchi in lega, climatronic, vetri oscurati, radio CD MP3, navigatore satellitare. Il tutto con un vantaggio cliente sempre di 2.650 euro a un prezzo fenomenale, 11.800 euro. E anche in questo caso parliamo di finanziamenti, tasso zero in 48 mesi oppure tasso agevolato con assicurazione furto incendio in omaggio. E non è finita, per tutta l'Ibiza in pronta consegna entro il 31 marzo un ulteriore sconto di 200 euro, solo da Center Milano. E allora cosa aspetti? Molla tutto e vieni a scoprire le offerte Seat. Ed eccoci arrivati alla seconda protagonista del nostro appuntamento, Seat Lyon Limited Edition, la vettura meno cara del suo segmento. Anche qui troviamo tantissimi optional già di serie, motore 1.6 TDI, tecnologia diesel Common Rail, clima, radio con comandi al volante auxin e USB, cerchi in lega da 16 pollici, fendinebbia e ESP. Questi sono tutti gli optional che troverete su Seat Lyon Limited Edition. Andiamo a vedere il prezzo, 15.250 euro. Anche qui grazie a un vantaggio cliente di 4.000 euro. Esatto Arianna, ben 4.000 euro di vantaggio cliente. Ricordiamo anche a tutti i telespettatori che questa è una vettura guidabile per i neopatentati. E ovviamente su tutta la gamma Leon, anche qui finanziamenti a tasso agevolato fino a 48 mesi con incendio e furto in omaggio. E anche per la gamma Leon andiamo a vedere una versione per i clienti più esigenti, Seat Lyon Coppa. Eccola qui. Anche qui un allestimento fenomenale. Abbiamo un navigatore satellitare integrato, abbiamo sensore pioggia, sensori di parcheggio posteriori, specchietti di ritrovisione interna e antiabbagliamento e viva voce bluetooth. Con un vantaggio cliente di ben 4.300 euro a un prezzo eccezionale, 17.850 euro. Un prezzo davvero straordinario. Allora parlando di prezzo parliamo anche di finanziamento. Anche in questo caso su Seat Lyon Coppa troverete tasso agevolato con assicurazione furto incendio in omaggio. Fantastico. Abbiamo visto i modelli di punta di Seat. Ora cosa le dici? Andiamo a vedere il nostro showroom usato? Assolutamente sì. Andiamo. Questa volta sono preparata. Seat Selection è il vostro usato ispezionato, sicuro e certificato. È corretto Mauro? Corretto. Bravissima Arianna. Ricordiamo quindi anche i telespettatori che come filiale del gruppo Volkswagen qui a Milano possiamo trovare tutto l'usato di Seat, Audi, Volkswagen e Skoda. Allora andiamo a vedere qualche esempio. Bravissima. Audi A3 Cabrio 2000 TDI Ambition. Aprile 2010. 14.000 km. Con vernice metallizzata. Park Pilot anteriore e posteriore. 24.500 euro. Volkswagen Polo 1200 TSI 5 porte. Highline. Del novembre del 2010. 7.800 km. Vernice metallizzata. Climatronic a 12.900 euro. Audi A3 Sportback 1600 TDI S-Tronic Ambition. Ottobre 2010. 13.000 km. Con Park S-Line. Mancorrenti cromati. Bracciolo anteriore. A solo 25.300 euro. Volkswagen Golf 1600. 5 porte. Comfortline. Con impianto GPL del gennaio del 2011. Con 11.000 km. Vernice metallizzata. Climatronic e fendinebbia. A 16.950 euro. Audi A3 2000 TDI S-Tronic Ambition. Di settembre 2010. 18.000 km. Vernice metallizzata. Park S-Line. Faria Loxenon Plus. Radio Concert. A 25.700 euro. Volkswagen Turan 2000 TDI 140 CV. Highline. Del gennaio del 2011. Con 8.000 km. Vernice metallizzata. Navigatore e touchscreen. 24.450 euro. e siamo ormai arrivati al termine del nostro appuntamento. Io inizio col salutare e ringraziare Mauro. Grazie a te Arianna. Un saluto anche a te Sara. Grazie a te Arianna e ricordo ai nostri telespettatori di andare a visitarci sul nostro sito internet. Un grazie anche a tutti gli amici che ci seguono sempre e non dimenticatevi, molla tutto! Grazie a tutti!